Rinovare la fede dinnanzi a questi grandi personaggi che della loro fede ne hanno fatto un credo. Queste le parole di Don Luigi Mastro Domenico, parroco della chiesa Santa Maria delle Rose a Bonifro, durante la messa di celebrazione della fessa di San Celestino Martire. La loro speranza è stata forte in Dio nonostante le avversità e proprio come San Celestino, in quanto martire, deve essere riconosciuto dal popolo di Bonifro che vive tutto l'anno per questa ed altre tre feste. Questa è la terza, poi ci sarà San Michele, ma l'esperienza di San Celestino, ci spiega Don Luigi, è molto forte in quanto ne custodiamo anche le reliquie. Vorrei precisare questo, ossia che il martirio fa parte della vita di ciascuno di noi, ma non dobbiamo scoraggiarci, perché è proprio dal martirio che viene fuori la fede autentica, quella bella, semplice e schietta. Preghiamo per tutte le persone che soffrono, le persone che vivono momenti di scoraggiamento anche alle soglie dell'anno santo dedicato alla speranza. Preghiamo perché il mondo sia più speranzoso e che ci dia il coraggio accompagnato sempre dall'amore di Dio che è grande. Domani partirò per Sulz, per la Francia, dove ci sono tanti buone frani che sicuramente hanno il desiderio di partecipare a queste feste, ma non possono per motivi lavorativi o eccetera. Ma andiamo noi a trovarle e per me è una grande gioia anche come parroco. Certamente sarà presente il sindaco, l'assessore e andrà un pullman di 50 persone. Staremo una settimana insieme, quattro giorni e ci sarà certamente un clima di fraternità. Il sabato celebreremo anche l'Eucarestia in lingua italiana nella parrocchia di Sulz.